Signori bentornati con GTA Allora Voglio passare un attimo a Trevor Perché devo fare la missione del tizio Che l'abbiamo lasciato in sospeso Minchia mi tocco la chiamano un taxi madonna mia Sono troppo lontano I mexicani hanno bisogno di uccidere E qualcuno ha bisogno di portarlo Non stavolta, le portiamo dopo Porca merda è qua in città C'è anche la missione qui però beh Se la violenza possiamo rimandarla Ok vado in strada e chiamo un taxi Ma che? Pezzo di merda Eh mica molto ammazzo Pezzo di merda Che cazzo va idiota Brutto bastardo Dove stai andando? Ah Sto di merda To Ciao bello Ciao bello Ciao Colugui Così Cosa? 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 Mi hanno sguifato una ruota, classico Minchè, sono una precisione veramente Da far schifo, eh Via 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 Minchè, davvero del bastardo Però come si è spinto la moglie Ma cazzo, mi sto infilando anche io, ma dai Perfetto Admitato il bastardo Ok, abbiamo la nostra macchina qua con le ruote e il segno dei dollari Fantastica Andiamo a farci la missione di Michael Ok, abbiamo la nostra macchina qua con le ruote e il segno dei dollari Fantastica Andiamo a farci la missione di Michael Chi è? Forse è qualcosa, bene C'è un'altra missione qua di Franklin Fai vedere Franklin c'ha due missioni All'attivo Segui l'architetto e recupero la pianta Ok Ehi, stupido Non puoi essere qui senza una hatta Sì, grazie a molti Inspezione di sito Arquitetto su sito Questo bastardo se ne va di sopra Sì Muoviti Dammi quelle cazzo di piantine, va Fatti dalla wericetta all'architetto Hanno Attivare Ecco Questo va bene Ok Parabarapapapapapu Parabarapapap Nessuno si è accorto di nulla Easy immaginate che sta dentro non ci sono in realtà i progetti farebbe ridere sta cosa stavo pensando in realtà di buttarmi da sopra l'edificio col paracadute però non c'era il paracadute quindi non lo voglio schiantare let's go let's go e sai che ti dico? che ti frego anche la macchina a me se ce li abbia le chiave altrimenti sfondo il finestrino no no prendo la mia va prendo la mia non evitiamo di ottenere l'attenzione aggiungi la fabbrica tessile quindi se non avessi fatta sta cosa probabilmente manco cioè l'avrei saltata proprio praticamente non che fosse un guardi super entusiasmante però vedi ci sta il fatto che te la faccia fare ho cambiato personaggio al ruolo e me l'ha fatta fare ma era mancabile tranquillamente sta missione ma adesso vediamo sono titubante sul metodo da fare fra la mia signora ha 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 Oh, 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 magari sono. Ecco quello che penso. Abbiamo due opzioni. Il nuovo software di sicurezza va in modo di contenimento in caso di emergenza, sai, gli uomini, gli uomini, gli uomini, gli uomini di Dio. Quindi possiamo creare delle bomba di fogli. E si fanno BANG! Il callo di emergenza va fuori, lo scopriamo, lo scopriamo come uomini, e poi prendiamo la domanda di contenimento. O, o, possiamo hackare il sistema a l'interno. Siamo in, uh, con l'air. Ascolti che non si non si tratta di più di resistenza. C'è un regalo. Bambi in un'office, randambo, diventando un'escritti corruzione dei sottopi, o, defeating uno dei sistemi più complessi dei sistemi, usando un'attività di niente, usare i nostri niente, eh? Sì, niente, 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 niente. Ma, inizia, gli uomini. little be and heat what about the other way with the ninja skills you choose that route you won't be using the janitor's gear but when we had to cover all the bases that your FIB paymasters want to provide you with a chopper and a pilot now you fly way up above the building parachute in and gain access to the roof here now you'll need to be armed to the teeth mind you just in case the shit goes down mopping or parachuting wow you're making this choice really difficult Ma a me stuzzica molto pompierico E' un po' di un po' di uccidio, ok? Beh, bisogna un po' di uccidio Sì, loro saranno con te come uccidio Tutto si va a plan, non si fanno una sola uccidio Ma tu saranno in un po' di high-rise con loro, quindi considerate questo E' il mio piatto, ragazzi Non cambiamo quello ora Guarda, sembra dei coglioni Sembrano questi qua Scelta delle armi Faccio lui, dai Cosmoda, è un pro, non c'è altro da dire Ok, questo sembra tutto bene a te Tu stai robando l'FIB qui Sì, sono sicuro, dai E abbiamo un vincitore Io faccio i tuoi angeli e ti ringrazio quando siamo pronti Ok, senti qui Quattro, senti ci dobbiamo procurare Oh, bravo E' davvero interessante Ma non so se possiamo farlo senza chi Sai chi Eh, beh Tanto che non può farlo senza noi Ecco Vabbè, da notte ci faremo pace Quindi per questo lavoro dobbiamo procurarci un camion dei pompieri Quello lo ricopriamo abbastanza in fretta Ci basta fare una telefonata E via Ehm Un veicolo per la fuga Ci serve Quelli quattro posti per forza Poi che altro Vedo le missione Sempre tre qua Qua ne segna tre, perchè tre? Sono... ne vedo una In realtà ne vedo una Però segna tre robe Qua segna... Michael What the fuck Possiamo usare questo per fuggire Fa cagare niente di che Però... Chi se ne frega Possiamo anche modificarlo volendo Questo dietro mi pare il piccazzuto Fuori dai coglioni Ma qua c'è l'FIB Eh, perfetto Ve lo toco vicino Un posto a punto di fuga Poi è perfetto Sono andato... Un cavalcavia Ok, adesso... Chiamiamo il nome V1 Perfetto 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 Oddio, spero non arrivi sopra Molto interessante Oh What the fuck? Ma sei randato Sei randato Sono andato Beh ma c'è un incendio Anch'io sono furbo eh Oddio, oddy, oddy, oddy czy Furia cazzo A Mack Allè... un po' d'acqua per poi tutti Allora sono semine di sbirri Vaca la merda Ecco qua Perché ci sono migliaia Tipo dietro gli angoli Mi capisco Aspetta eh Passo tipo qua sotto Da questa parte lì Se non faccio il manta Dai 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 Smettete di cercarmi Oddio odio 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 Let's go E anche l'autopompa è sistemato Cos'altro serve? Devo avere un vicolo della fuga L'autopompa Perfetto Ok ci siamo Fatto Bene tutto Adesso per forse Deve chiamare qualcuna Pura andiamo a casa di Michael Fatto Passiamo a Michael Perché non c'è una missione a casa Non so cosa però Bene Andiamo a casa Let's go Vediamo che succede La casina Riunione di famiglie Barbon whiskey Oh dear Non c'è la merda Non c'è la merda Non c'è la merda Inoltre Ti sono anche un怎樣 E non c'è la merda Non c'è la merda Non c'è la merda E sono sicuramente E non c'è un poich halbo Sono un poicholardo ma non c'è la merda Non possiamo Noi non vedremo E sei un poicholoso Unire Chi Anche Unire Ma cosa Al proposito Non come Non Che Ma Unire Unire a car kind of way in a completely off topic can you buy me a car i mean firstly i'm a fat shit that you ruined and and secondly i will get a job and i will stop smoking pot in that sort of way okay i love you too son now go get a job because i don't have the money to buy you a car besides which way i'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway please don't die okay it's great catching up with you too dad yeah how's your mother oh she's great no she's not she's bored i mean all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger better built caring and compassionate man is great and all what's she gonna do for the other six hours of the day what the fuck i'm just winding you up you miserable bastard she's mad at you she's scared that you're gonna die and she wants you to go over there and prove that you give a fuck all right all right all right i can take a fucking hit let's go we'll get tracy on the way tracy on the other hand she's a star what's been happening you know i don't know stuff no i don't know well what's been happening with you uh thanks it's been it's it's anyone's guess yeah yeah i get it you were out of the city sure you guys were gone so i thought i'd you know let's maybe not pretend it was anything to do with us hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows they kind of made me think it was an involuntary exodus yeah okay that'll work okay se ha mai che saldi la conversazione se arriviamo qua here they are come on let's say hi hey ma qui madonna come on your colon has been sluggish for weeks il croya un bigron life style guru and a little bit more boy toy please excuse me i'm trying to write a screen shush woman hey amanda michael hi mom hi jimmy these two a picture of holistic well-being i don't think hey maybe they shit once a year between them hey that's my son amanda come i have a new unitard on hold you must pay for it hey buddy i'm gonna ask politely that you show my wife a little respect red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract i ain't even gonna go there i'm gonna ask you one time nicely michael just hit him please shush woman anything for you sweetheart what are you doing i had some really good work there you dick there's a lot more where that came from holmes is he alive yeah he's fine listen amanda i wanted i mean to say to you look i just what he's trying to say mom is that he's a pathetic old drunken mess and he needs you and you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation did someone say shut up i guess we could try all i'm asking for is a shot neutral ground dr friedlander's office it's perfect all of us i'll pick up tracy and bring her there meet you fine all right you come on get up you idiot yoga no no yoga all right you know where your sister is right what do you think about that sugar caffeine and emulsified pig fat flavored beverage i want another time come on i want one to later what do you think about that tracy's meant to be at the tattoo parlor oh 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 Questa è? Tracy ha fatto un altro tattuto? Non, no, non. Lassolo è qui. Lassolo? E' un uomo? Cosa vuole? È Tracy che vuole qualcosa. Questa vuole tornare a fare fame o fame dopo che tu e Uncle T cuttiamo le gambeo. Potremmo potremmo aiutare a quella. Potremmo potremmo. E, mi chiedo. Tu sei qui con tua madre. Questo è tutto bene, non? Qualcuno che finisce con Fabian's eardrum è più che ok con me. Cioè, con me e tua mamma. Credo che sia un'importante passo nella direzione del ok, se lo sai. Sì, sì, lo sai. Qui c'è il tattuto. Tu sei qui? Andiamo. Sì. 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 Oh, dear. Farate Nasa. Oh, dè. what a mossa. Oh, dè. Sì. Thank you. Ah! Ah! Ha ha ha! Ha ha ha! Ow! Oh ho ho, that looks purty! Here, let's get rid of this! Ha 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 ha! Oh my god! Papa bear! What's daddy number two? Going to think about this? Let's not get him involved! Ah! Let's do! If I knew I was getting this much work done, I would've brought a camera crew! Ah! Ha ha ha! Ugh! oh Dio oh Dio hai già capito che dove sta hai già capito come faccio i tre piccoli piccoli pezzi qui ahahahah 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 ahahahahah oh this is a real one stop shop look we can work this out you like this! you know if you catch my drift oh no that's my it's my signature my ponytail now i gotta get extensions no what you gotta get is my daughter whatever she wants yeah without sucking on your pittlestick look okay guys that was a joke I'm a clown I'm a sad lonely little clown hey you're gonna put her on your show and you're gonna make sure she looks good Look, ok, I've got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle... Just do it! Yeah. All right. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll, like, call you or something, okay? Bye! There's never a family that needs therapy. How do I look? It's not good, is it? Who knew you could use a tattoo gun? It's one of those skills that you pick up in prison, you know, making your name on your celly's ass. Eww, are you serious? Come on! Wow! Not quite. No, proprio. Okay, finalmente l'altra seduta. Cazzo, non l'ho più chiamato, però vabbè, neanche lui me lo diceva di chiamarlo. Non è difficile, ma il tuo terapista non è stato esattamente trasformativo per la tua salute mental. So, I don't know why he'd be better positioned to help four dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Hop! Now he beats yoga. Literally. Like babying around the head with the laptop. Oh, yeah, like, ow! Our old man released the dude's inner tranquility. Oh, my God! There was me thinking that you might have grown in our time apart. Our old man released the dude's inner tranquility all over the bean machine badian. To be honest, and I know it's cardically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long, and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and empty inside. Over, Cher. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're, like, finally, like, using your powers of selfishness and rage for, like, good. Not an objective universal good, but, like, a subjective what's-in-our-best-interest kind of good. Fuck yeah! Awesome! Let's rob somebody! Do it, Dad! Yeah! Do it! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but knock it off! Yeah, don't, like, actually rob a liquor store. That might, like, kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescriptions I need, at least for the meantime. Thank you. Okay. Michael, kids, let's go inside. Okay. I'm fighting. Amanda! Hello! Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not worth it. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. Ha ha ha. That's cool. Ha 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 ha. It's not. Let's face it, Amanda. We're trailer trash. You and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Ha 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 ha. Ha ha ha. Let's get a center before that ever happens. You are such a fucking animal. A deranged animal. You fucking ain't right, I'm deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Good. I think we made some real progress there. But how are some progress there? Oh, Michael. I hope this goes without saying but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Take care now. Beh non è risultato molto devo dire Oh Kids Kids Quattromila dollari per cosa? Forse ma seriamente Quattromila dollari per cosa? We still had a ways to go You know, like Maybe we need more time Time for what? Time to move beyond screaming at each other That was cathartic Catharsis all over my face Ooh, I got a warm, fuzzy feeling Probably just the meds you rated Okay Cathartic Alright I just don't want it to be more of the same Ora sei la persona che faccia le domande? Non, non, non le domande. Sto dicendo che sei vero. Alcune cosa è scoperto, e abbiamo bisogno lavorare a risolvere. Siamo, tutti noi. Sì, mamma. Forse davvero, ragazzi. Perché ho cominciato a capire qualcosa da l'altro. Nessuno di questa famiglia. Non è il Dr. Friedlander, o mio professore di yoga, o il nostro tennico, o il ragazzo, 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 il ragazzo, o il ragazzo, o il ragazzo, o il proctologo, o il ragazzo, o il ragazzo che si vede a Gesù a Vespucci, o il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo, siamo stocchi con noi. Cioè, come ti ho racconti la nostra morte? Chiariamo i nomi, la linea, la FIB, quel monstre, Trever? Non ho raccontato, Cosa ti ho raccontato. Hey, è che è venuto alla prossima terapia? Cosa? Non, no, solo un'altra cosa, Michal, non ci si tratta, non ci si tratta, non ci si tratta, ma cosa? La mia è una cosa, la mia è una cosa, con ogni fibra del mio corpo, ci farò che ci si tratta, lo che se prende, per assicurare che non ci succedere, mi ronchere. Mi ronchere. E non ci si tratta, o altre mene, sì. Sei bravo che quella, Pop, ragazzi, non ho raccontato, con questa conversazione. Tiensate quello che ci si tratta, ok? Si, è stato migrazione, la cosa che tratta le mene, Siamo qui! La casa piccola casa! Ricordi questo posto? Poi figli! Se trovi i cittadini morti, le donne costruite o i trevori o i trevori Phillips andiamo in un hotel di Rockford Hills Ah, bene, bene Riunione di famiglia Credo che cazzo sia andato in quelle missioni opzionali missabili Credo Oddio, dove siamo? Tremor! Saluto tra i ragazzi Ahahahah Ho ucciso un baria, che è successo qua? Guardate Ma che cazzo? Oddio Ah, sempre dei motociclisti Minchia, guerra aperta ad altri motociclisti Ma che cazzo? Trevor, ma che cazzo combina Però c'è la missione di Trevor Guardate C'è la missione di Trevor Marianne Ok, ok, la pazza! Questa è una pazza, mi sa Se non mi sbaglio Comunque ragazzi, spazio quello esplosivo Vi sia piaciuto, noi ci vediamo per la prossima parte Ciao a tutti